Quasi archiviata all'ottima stagione estiva, il comune di Martinsicuro pensa già a tutelare la prossima dalle mareggiate con il piano anti-erosione che sta per entrare nel vivo. In questi giorni è previsto l'inizio dei lavori del primo lotto di manutenzione delle scogliere esistenti, un primo intervento di 300.000 euro, il quale seguirà un ulteriore progetto, ulteriori lavori per altri 800.000 euro che andranno a riqualificare tutte le scogliere da Martinsicuro sino a Villa Rosa. Quindi entro il mese di marzo dovremmo fare un intervento importante che vada a difendere i tratti maggiormente erosi sia a Martinsicuro centro che a Villa Rosa sud. A proposito di opere propedeutiche al turismo, la riviera Truentina si è già rifatta in look riqualificando parte del lungomare ed ora il sindaco guarda gli altri lotti. Noi abbiamo fatto un lotto dalla parte centrale del lungomare di Martinsicuro e stiamo definendo la progettazione esecutiva di altri tratti sia a Martinsicuro che a Villa Rosa. Quindi contiamo nei prossimi mesi di portare in approvazione il progetto e poi di arrivare alla procedura di gara per appaltare altri lotti. Spostandoci in piazza a proposito di opere pubbliche, Vagnoni parla anche del futuro dell'ex Cinema Ambra con un ulteriore passaggio tecnico per dotare il comune di un progetto esecutivo di un'opera finalmente appaltabile. Alcuni mesi fa abbiamo ottenuto un finanziamento per la progettazione inerente alla ristrutturazione del Cinema Ambra. È stato appaltato ad un gruppo di professionisti che hanno iniziato a lavorare quindi ci auguriamo nei prossimi mesi di poter avere finalmente un progetto esecutivo di ristrutturazione dell'esistente, un progetto che sia anche economicamente più sostenibile rispetto ai progetti passati e che ci consentano attraverso una richiesta di finanziamento che abbiamo già fatto di poter arrivare nel giro di qualche mese poi ad avere l'opera finanziata e quindi per procedere.